. Roger Waters aggiunge una data italiana al tour, tre giorni a Bologna . Roger Waters ha deciso di accontentare i numerosi fan italiani che non sono riusciti a trovare i biglietti per assistere al suo show, aggiungendo una data ai quattro concerti già stabiliti per la primavera del 2018, in occasione dello Stu Tempour, lex Pink Floyd suonerà un giorno in più a Bologna. . Partere in piedi per la nuova data bolognese. La data del 22 aprile 2018 si aggiunge a quelle del 17 e 18 al Mediolanum Forum di Assago e a quelle del 21 e 24 all'Unipol Arena di Casalecchio, Bo, già sold out nel giro di un'ora. . 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 Roger Waters non tornava in Italia dai tempi di The Wall Live, nel 2011, che fece 4 milioni di spettatori, decretandone il record come il tour di un artista solista che ha fatto il maggior incasso nella storia. . Nei concerti, Waters suona alcuni dei più grandi successi dei Pink Floyd, tratti soprattutto dagli album storici The Wall, The Dark Seed of the Monevishowherere ma anche pezzi del suo ultimo album East East The Life Vere AlliVant, uscito lo scorso 2 giugno. . Joey Warrunker alla batteria e Jess Bofe e Holly Laessi Gakori e percussioni. . .